Sopra luogo dei consiglieri comunali della commissione consigliare seconda di Palazzo Cernezzi all'interno della piscina di Muggiò per verificare lo stato della struttura olimpionica. Alla stampa invece non è stato permesso di entrare. Ad accompagnare i consiglieri comunali all'interno dell'impianto, chiuso dall'estate del 2019, è stato l'assessore allo sport di Como Marco Galli. Né a Palazzetto né qua, non creiamo più casini per niente. Ma no, ma le spiego. Non io, magari l'operatore. È veramente una cosa che non ha un senso. Diciamoci proprio come stanno le cose, perché entrare con i consiglieri, con le cose su una cosa che è sempre quella, che è chiusa da... Nulla da fare, la stampa non può entrare. Aspettate questo periodo e per capire il futuro si è aperta le porte volentieri a una commissione che ha diritto e in un futuro anche a una stampa. Perché prima saremmo entrati in uno spazio chiuso, che era chiuso ormai da tempo, senza avere novità da poter affrontare con la stampa. Oggi qualcosa in più si può raccontare, anche rispetto agli interventi proposti e rispetto a quello che c'è in questo momento. Quindi una struttura parzialmente agibile, non come il palazzetto, che veramente è inagibile, diciamo. Qui si può traccedere, ripeto, sembrava giusto, anche in accordo col sindaco e altri assessori di riferimento, poter far sì che le cose avessero un percorso abbastanza logico per noi. Abbiamo visto tutta la parte a primo piano, gli spogliatoi, l'area d'ingresso, l'atrio e tutta la parte della vasca e della piscina, per poi passare successivamente al piano interrato con tutti gli impianti che al momento, come quasi tutto l'immobile, sono assolutamente vetusti. Intanto i promotori del sopralluogo nell'area sportiva di Mugiorra contano quello che hanno potuto vedere entrando nell'impianto. Ho dato un'occhiata, curioso il fatto che chi doveva aprire i cancelli non avesse le chiavi e non sapeva nemmeno l'esistenza di Lucchetti, questo la dice lunga. Io che ho potuto gustare i fasti degli anni 70-80 della piscina che era un esempio europeo di modernità, sono molto orgoglioso che col mio gruppo abbiamo smosso le carte per arrivare a fare un'altra piscina, di quel livello sarà il nostro orgoglio. Dobbiamo fare delle valutazioni veramente economico-finanziarie, dobbiamo fare le attualizzazioni dell'opera che vanno al di là dei 20 anni, ma che vedono un arco di tempo 2070, quindi 50 anni. La visita dei consiglieri si è conclusa con il sopralluogo al vicino Campoconi. C'è bisogno di intervenire fortemente, c'è bisogno di rifare quello sì, adesso qualcosa finalmente si muove, si muove con un ritardo. Stessa sorte anche per il sopralluogo richiesto per entrare al vicino palazzetto di Mugio, al momento negato. Che io sappia, la data esatta non la so, però comunque si andrà, ho detto anche io di sì adesso, quindi se non è domani, sarà, non è settimana prossima, cioè non è settimana prossima, si andrà sicuramente. Io penso che ci sia poco da vedere, sappiamo in quali condizioni è da tanto tempo, quindi francamente l'idea di poterla visitare aggiungerebbe molto poco. Prometto l'impegno, non il risultato. Prima l'ha detto, la prossima settimana. La prossima, prometto l'impegno a far sì che si entri tutti, ripeto, è il metto, scarpe di dotazione e come ho accennato precedentemente, coordinato da un presidente e dall'ufficio tecnico che ci dovrà dare nulla osta.